è una cosa importante oggi incomincia a girare non deve andare più dal parrucchiere non si deve tagliare i capelli non ci deve fare pirsi non si deve mettere in piedi io quando la principessa sei venuto sempre preparato a scuola o sempre bello in eccebibile non mi ricordo niente quindi da questo ripetiamo la battuta dal dopo lui va bene va bene va bene va bene quasi snobbandolo perché sai che non ti lo sa anche se non è obbligatorio ci terrei alla partecipazione di tutti di più anche se non è obbligatorio ci terrei alla partecipazione di tutti si vengo in cappo deve spostare non allora ii o ei si no no Lasciatemi passare Se vuoi passare di qua ti riesco giudizioso E non mi aspettati Che se mi do benissimo Azione Buona, buona Ok, un applauso No, no 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 Problema tecnico Passano le auto Maestra Mary che sta mangiando Camera partita Campane anche Ciao Siamo pronti Ma se smetto di pagare No Ci tengo alle mie ossa Se non vuoi dire che potete girare i film Ecco cosa ci vuole a salire i film a girare i film E' una visione Perché sto perdendo i sensi Come ti do veramente salassare Come detta azione Si è azionato anche il vento Ci sei là Via Di qua Di qua, di qua, di qua Sei in scena Complimenti ragazzi Davvero bellissimo Sinceramente mi sembra una presa per il c***o Allora siamo pronti per tirare l'ultima scena E io no Non lo dire così L'ultima scena L'ultima scena Cinginno Ora basta Tira fuori i soldi Altrimenti Dai Mi è piaciuto questo progetto? Sì Che vi è piaciuto di più? Tutta Tutta E ripete l'esterno Quale scena vi è piaciuta di più? Quella del bosco Quale? Quella del bosco Quella del corto nel corso Quella del corto nel corso Nel bosco Nel bosco Nel bosco La scena del bosco Quale scena ti è piaciuta di più? Quella del bosco Quale? Quale? Mi è piaciuta di più maestra? A noi tutte A noi è piaciuto soprattutto L'idea Un bel generaggio Una bellissima esperienza Anche in classe Sono stati molto bravi Lasciano girate in classe La cameretta La scena della cameretta Tutto molto bello Quale opera un prezzo Da ripetere è possibile Quale opera un prezzo La scena della scena in classe Sì No excuses, excuses, bitch Cause your mama raised you better than that Cause your mama raised you better than that Cause your mama raised you better than that